Sono solo 53 gli over 60 che si sono presentati oggi nel primo giorno della campagna di immunizzazione di Regione Lombardia, finalizzata a vaccinare contro il Covid questa fascia di popolazione considerata a rischio in caso di infezione. Numeri non altissimi ma comunque una prima risposta. I dati forniti dall'ASS Tillariana sono aggiornati alle 17 di oggi. Complessivamente si sono presentate, come previsto senza appuntamento, 34 persone a Villa Erba di Cernobbio e 19 all'Ario Fiere di Erba e hanno ricevuto il monodose Janssen. Da oggi e fino a fine mese, tutti i giorni, sabati e domeniche incluse, dalle 8 alle 20, l'ATS in Subria ha previsto le inoculazioni per gli over 60 ancora non vaccinati nei due ablariani. La campagna è volta a raggiungere il maggior numero di persone nella fascia, come detto, più a rischio della popolazione. Gli over 60, appunto, è il dato di oggi, segna l'inizio dell'operazione, anche se non ha i ritmi sperati. Sul territorio dell'ATS in Subria, gli ultra-sessantenni ancora non vaccinati sono quasi 63.000, dei quali 25.000 residenti in provincia di Como. Più in generale, per quanto riguarda le adesioni alla campagna vaccinale però, il territorio lariano mantiene comunque una buona percentuale. Oltre il 76% dei residenti con almeno 12 anni compiuti ha già ricevuto la prima dose. Per l'inoculazione del vaccino monodose a Jover 60, va la pena ribadirlo, non serve alcuna prenotazione. È sufficiente presentarsi in uno dei due hub, indipendentemente dal luogo di residenza, durante gli orari di apertura, e cioè dalle 8 alle 20, con tessera sanitaria, scheda anamnestica e consenso informato compilato.